Buonasera ragazzi e ciao a tutti. Allora vorrei salutare tutte le persone che guardano il mio canale e vorrei fare alcune imitazioni calabresi. Siccome mi piace tanto imitare le persone e vorrei imitare anche un po' di calabresi. Non ce l'ho con i calabresi perché a me in calabresi vi piace la parlata molto. Essendo toscana, invito anche il toscano benissimo. Come una cora con l'anguizzo volta a volta. O come su un interviso che ho parlato ai ragazzi ci avete un po' di spec. Si no, in calabrese. In calabrese che si potesse. Ragazzi avete un po' di balone quelle buone, quelle costose, quelle polposi, quelli sanziosemi. Per come anche c'è un po' di calabresi. Non ci sono né salmone e nulla, quindi sono buonissimi quelle. E poi ho portato un po' di calabresi, quelle peccanti, quelle caolini, quelli rossi, rossi, rossi. Mi piacciono tantissimo. Così tanto che quando le mangio sento il costo di paparone. Che soffia. dettato. Mi piace tantissimo. Tanto tanto. Se no posso imitare una volta. Ragazzi. Quello è tutto un po' bello. Mozzarellate può fare quella campana, quella, leggermente quella con il succoso di latte che scende giù. Quella secca è buonissima. Se no che posso imitare. O se avete voi un grattavinci. Eh, il toscano è toscano però, eh. Tutte le mattine faccio la sera finestra e dite. Guardate che bel sole. Eh, quello secca è toscano. di separazione a cecchierini. Io c'è. E passa una volta sola.